Siamo nati nell'aprile del 2003, la nostra sede è ad Argenta in via Madrid, il nostro scopo è quello di costruire buoni alloggi a prezzi modici per i nostri clienti e soci. Ci tengo a precisare che tutti i tecnici, tutte le imprese, gli artigiani che collaborano all'esecuzione delle nostre abitazioni sono di Argenta e hanno sedi operativi in Argenta, questo per dare il massimo della disponibilità ai nostri acquirenti, ai nostri soci, quindi ai nostri clienti. Le nostre case sono fatte con passione, ovviamente cerchiamo di dare il massimo per quello che è possibile, tendiamo a fare immobili che rispettino il risparmio energetico, l'ambiente, questa è la nostra nuova filosofia, cerchiamo le migliori soluzioni nell'ambito del riscaldamento, dell'isolamento acustico e termico, questo proprio per offrire il massimo del benessere ai clienti che acquistano le nostre case. Noi abbiamo in corso di costruzione ad Argenta in via Benvenuto Tisi un residence che ha proprio queste caratteristiche, il palazzo tra l'altro si trova a pochi passi dal centro cittadino, dalla stazione ferroviaria, dalle vie di comunicazioni ed è in corso di costruzione composto da tre palazzi, il primo chiamato Residenza Verde è in corso di costruzione, sarà ultimato entro settembre del 2009 per un complesso totale di 60 alloggi denominati appunto Arcobaleno Appartamento. Le caratteristiche principali di questo palazzo, di questa costruzione sono il riscaldamento a pavimento che con le sue caratteristiche crea un notevole benessere all'interno dell'abitazione e soprattutto tende molto a risparmio energetico. Questo perché? Perché è coadiuvato ovviamente da una caldaia a condensazione, da dei pannelli solari termici che sappiamo che catturano l'energia del sole, che è gratis e ovviamente quello che riguarda l'isolamento acustico che per noi è molto importante specialmente negli ultimi anni, sappiamo bene che abitare in condominio non è sempre semplice. Se per giunta si aggiunge rumore anche creato dagli altri, sicuramente non rende facile la vita. Ecco, noi tendiamo ad isolare al massimo le abitazioni per creare benessere all'interno dei nostri robot. Se volete visitare il nostro cantiere, tutti i giorni noi siamo disponibili a poterlo fare bene.